Da qua mi sembra, cioè, mi sembra abbastanza... Mi sembra un salto abbastanza fattibile, insomma. Contando tutte le mie incapacità... Eh sì, ma è come il salto degli altri due cosi che abbiamo fatto salire. Oh, ok, sì sì, si può fare. Si può fare, si è fatto, si è fatto. Ok, allora dobbiamo fare la mega... La sempliciotta. Scalinata. Su serio? Io metto l'anello del catto. Esatto. Andiamo giù di qua? E gli stivalettini, sì. Sì, boh, si fa prima. Questo mi sta già più rischioso di salto. Esatto. Bravissimo! Non mi sta neanche cagando il tizio, tra l'altro. Ma no! Mi caga un altro, però. E ora mi cagando due. Al ponte di casa Doom, presto! Mai capito? No, che cos'è? Il Signore degli Anelli, il ponte di casa Doom. Ok, no, no, no. E fa tanto mori. Ah, qui c'è ancora il simbolo di... Ah, è la short cuttona. Eh sì. Forse un altro pezzo. Forse dal falò si riusciva a vedere questo. Eh no, infatti perché non è qua sopra il falò. È lì sopra il falò. È molto più avanti quella zona, quell'altra scorciatoia. Non vedo. Non vedo. Ah, dove c'è la luce. Il falò. Io vedo la luce ma non vedo il falò. No, non ci vedo il falò. Però... Eh, succedono cose. Succedono cose. Ah, oddio un drago! Oh! Ok. Me lo sono un po' perso, però. Vabbè, abbiamo altre due occasioni per vedere. Esatto. No, aspettate! Oh sì. Anime focalizzatrici. Wow, sembra potente. Oh, bello! Ah! No, questi qua non mi piacciono. Oh oh! Apriti sesamo! Mambarvissimo! Alibaba! E qui ci stava il cosplay di Indian Alliance. Sì, con tutte le parti che si aprono. Madonna. Quanto figlio. Senti la vocina che canta la gente. Ma ci ho smesso. Oddio, ci sono un sacco di robe. Un sacco di vie. Però aspetta, però scusa. Gli interruttori prima li avevo colpiti non si sono attivati quelli per terra. No, no. Sono diversi. Ah, ok. Peccato. Alcuni finti e alcuni veri. Cioè, sì, si attivano. Sono attivati salendoci su. Oh, Gesù. Un altro bivio. Aspetta. Ah no, però mi sa che... Prima mi sono perso... Ah, ok. Qui c'è un bivio. Esatto. E qui... Andiamo di qua che si può... Oh, non mi piace questa... Cos'è? Questa zona. Merdaio. Te l'hai preso tutto in faccia. Però vedo che puzzano. Puzzano questi cosi. Cos'è veleno a contatto? Forse sono invincibili? No, veleno... Veleno a contatto, tipo. Allora. Tanto signorina no, ok. Ci ho pensato Vaga, va bene. Va bene. Quella sta, va. Eh, non posso malco attivare la pedale. Eh, infatti. Tristezza. Vaga, posso spaccarlo questo qua? Oppure... Succede una roba simpatica se lo lascio vivo? C'è... È lì. Ah, sì, lasciamolo lì vivo. Esatto. Ah, occhio! Stardo! È l'acqua dell'occhio! Vi raggiungo lì, comunque, se aspettate qualche secco. Ah, vuoi stare lì in mezzo? Dopo proviamo. Mi piace l'interruttore e uno di voi sta lì in mezzo. Esatto. Funziona. Uh, qui c'è Madò, che corrido. Madò, ma bellissimo questo. Intanto guardiamo... Voglio esplorare un attimo. Vaga, perché i tizi di prima per la roba del drago non sono morti? Quelli sul ponte. Eh, non lo so, infatti! Da me... Esatto, da me sono morti, da me sono morti. Infatti, infatti, prima le stavo dicendo, poi me sono bloccato. Mi sembra che dovevano morire quei due. Eh, esatto. Già meno... Già meno, da me sono morti. Sì, 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 perché lo ricordavo anch'io. No, sono morto. Occhio! È perché noi non possiamo tornare indietro. Indietreggia, hai paura, stronza, hai paura. Seria bello se potessi colpirlo con un affondo così. Quindi devo... Devo cadere nel buco? Sì, nel buchino. Esatto. Bravo. Invento la tua soluzione per tenere occupato il tipo. Sì, esatto. Bellissimo. Scudo di Avel a due mani. Quanti buchi... In quanti buchi devo cadere? Uno. Uno solo. Ok. Intanto baga... Duella col tipo. Poiché duellare si gratta le palle. Che non mi toglie neanche il minimo di stamina. Cioè, ogni attacco metri è tipo un ventesimo. Eh, perché ha le armi leggere per quello, immagino. Fa molto Prince of Persia, comunque. Eh, sì. Eh, che cosa ha fatto? Oh, salve. Cosa bisogna fare di questo signore? Credo... dobbiamo rushare e andare avanti. Io agirei così. Ah, perciò la vita. Ah! Ma... Ah, con il fu... Ah, con gli elementi si possono... Ah, ok. Allora... Il fuoco funziona. Anche la magia, anche la magia. Però ha molta resistenza. Ah! Aspetta, ho un'arma incantata. Fam... fammela... Vediamo se il veleno funziona. No. Ah... Eh... Esatto. Tutti in l'occupato, baga. Ditemi. No. Non riesco ad attaccarla attraverso, baga. Fallo venire un po'. Ok. Eh... Ah, mi sono girato nel momento sbagliato. Ah, ok. Sì, sì, sì. Ok. Voglio vedere se si può avvelenare. Sì, 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 sì. Ehi, ehi. Ok. No, non si può avvelenare, mi sa. Sta facendo tutto troppo. Non sta facendo comunque. E io non ho nessun tipo di arma da... Ah, no! C'è i martelloni! Ne avevo incantati i veri! Oh... Oh... Il nostro? No, il buff non funziona. No. Il mio martellone fulmine è più... Ah, ok. Ma quel buff, non un buff elementare. No. Ah, giusto. Potrei usare un buff elementare. Ok. Ok. Sto morendo. No, no, no. Niente, ma mi ha pure spinto verso le... Occhio turchi. Le spinazze. Fammi usare la resina. Ah, no, ma non serve. Ok. Ogna frusta d'oro. No, l'hai tolta! Beh, sì, vabbè. La resina migliore di sempre. Esatto. Scusa, scusabaga. Ti stavo spingendo e non volevo farlo. Ah, interessante. Questi metodi... E non mi faccio un po' i danni al chiotter spot. Almeno ho qualcosa da curare. C'è un sacco di... Aia! Ti difendo io. Tu lutta. Eeeh... Grazie. Ciao. Pietra del Drago. Mmm, sembra una chiave. Ok. Ho sentito un ruttone. Ah, ok. Stavo a rimanesse lì in piedi per sempre. Vai. Un'altra di quei cosi. Fa un male porco quel coso. Fa un male porco. Fa un male porco. Merda. Fa un male porco. Stai attento. Mi ha quasi bisottato, eh. Sì, sì, anche a me stava per bisottare. Oh no. 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 Ti to' oestis. No. Santoriu, hito ragare. E te... Vuoi una cura? Non è un mimi. Non è un mimi. Ah, ok. Ah merda colpisce anche di lato Non si apre A parte che forse prima ho saltato qualcosa A parte lì c'è una cesta Però se non puoi tornare indietro con quel baull Vabbè sì, forse sì Vabbè poi si fa il giro Pensavo se arrivassero in una zona ancora nuova Invece di qua Grazie a tutti